Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, restano rallentamenti per traffico tra Pistoia e il BV111 in direzione di Firenze, regolare il traffico altrove. Arriviamo in Fipili, un chilometro di coda per lavori al chilometro 17 tra Montelupo e Ginestra in direzione di Firenze. Proviamo inoltre i coda a tratti per traffico tra Ginestra e Firenze Scandici, ancora una volta verso il capoluogo. A Firenze segnaliamo rallentamenti per incidente nel sottopasso di piazzale Bambine e Bambini di Beslan. Per un altro incidente, Viale Paoli è al momento chiuso al traffico. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!